Ciumarallero, 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 c posti, contenitori, pozzi, le nevere per la conservazione anticamente della neve, neve che si conservava e serviva per fare i sorbetti, fino anche a Napoli veniva portato, per fare la granita a Napoli, la granita veniva servita con il ghiaccio di Trevigo, pensate un po' che bontà c'è in questo luogo. I nonni, gli antenati che sono stati chimici e farmacisti avevano qua la farmacia, la farmacia che ha curato tante persone, farmacia che si serviva delle cure naturali, praticavano cure naturali con delle erbe, vi ho fatto prima attraversare l'anfora antica che scende giù nelle sorgive dove si mettevano a macerare queste erbe, si preparavano gli infusi, infusi di ogni genere per curare e per dare bontà e salute a chi ne aveva bisogno.